Compositore e direttore d'orchestra, John Williams è noto soprattutto per le colonne sonore di film famosissimi, grazie alle quali è riuscito nella sua lunghissima carriera ad accumulare 25 premi Oscar per migliori colonne sonore. Il primo nel 1971 per Il violinista sul tetto, seguito poi da quelli per Lo squalo, Guerre stellari e Tile extraterrestre e per ultimo nel 1993 Schindler Liste, oltre a decine di nomination. Talento precoce ha studiato pianoforte, tromba, trombone e clarinetto, gran parte dei suoi successi è stata composta per il regista Steven Spielberg, con il quale ha collaborato numerose volte. In questo brano sono presentate alcune delle sue opere, tratte dai già citati Guerre stellari e Tile extraterrestre e Lo squalo, oltre ad una marcia composta per le quindicesime olimpiadi invernali del 1988 a Calgari, intitolata Olympic Spirit. Ascoltiamo John Williams in concert. Ascoltiamo John Williams in concerto, 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 Ascoltiamo John Williams in concerto,